La verità verrà a gala La verità verrà a gala La verità verrà a gala Quindi, grazie a questa clamorosa affermazione si scoprirà che la consorte del capomastro è madre di un ragazzino La Nuentris accontenterà delle peseta ricevute oppure racconterà la verità al Godoy Gli spoiler delle prossime puntate del Segreto ci rivelano che Vincente inizierà a minacciare Nazaria dicendogli di essere disposto a compromettere l'esistenza del figlio A quel punto, la Gorostizia inizierà a meditare un piano per incastrare il finto cugino Don Anselmo si accorgerà del malessere della donna, quindi si avvicinerà a lei per avere delle spiegazioni e darle un sostegno morale La governante, però, non gli rivelerà la verità raccontandogli una menzogna A complicare la situazione ci penserà Fè? Quest'ultima tornerà clamorosamente a Puente Viejo per riconquistare il cuore del suo amato Mauricio Ci riuscirà? Nel frattempo, gli spoiler, che arrivano direttamente dalla Spagna ci svelano Che la Gorostizia sarà costretta ad avvicinarsi a Prudencio per volontà della Montenegro